Le ferite del cancro si battono col trucco. Lo assicura alle donne la sperimentazione avviata all'Istituto Oncologico di Bari, la 49esima sede italiana dell'iniziativa. Un progetto internazionale dal titolo La Forza ed il Sorriso, nato nell'89 negli Stati Uniti ed allargato ora a 26 paesi. Obiettivo far nascere un laboratorio mensile di trucco e make-up aperto alle pazienti di tumore ricoverate in istituto. Chi lo desidera potrà richiedere gratuitamente la partecipazione ai corsi ed ottenere un kit completo di trucchi di fascia alta del valore di circa 600 euro, un efficace strumento di recupero, di autostima e di percezione positiva della propria immagine che garantisce terapie più efficaci. Non curiamo un organo, una malattia, curiamo una persona, quindi dobbiamo il benessere. Il benessere va visto a 360 gradi e questa è una delle mission del nostro istituto, quella della presa in carico del paziente oncologico a 360 gradi, quindi non solo una malattia d'organo, perché la malattia è una malattia sistemica, ma tutta la persona. Per l'associazione promotrice un ulteriore tassello al fine di potenziare in Italia l'umanizzazione delle cure oncologiche. Facendole partecipare si sentono in prima persona artefici del fatto che da una pelle rovinata dalla malattia escono radiose, gioiose, ecco perché hanno il sorriso sulle labbra.